Il mio compito è mantenere tutti alla massima concentrazione perché come ho spiegato i ragazzi e come abbiamo visto questa settimana, dobbiamo cercare delle varianti perché bisogna anche guardare gli avversari anche se la nostra mentalità è sempre la stessa. Sì, abbiamo studiato la partita, l'ho studiata la partita e loro è una squadra che comunque sia che questa settimana c'è un po' di malumore in piazza perché la sconfitta di Foggia non l'hanno digerita, sono stati un po' criticati, per cui secondo me troveremo una squadra aggressiva, una squadra che vorrà fare risultato anche perché giocare lì in quelle piazze non è facile, però io voglio una riprova da parte mia, da parte della squadra perché una squadra che vuole puntare in alto deve comunque sia andare lì e fare la partita. No, c'è da lavorare ancora tanto, c'è da lavorare, basti pensare comunque sia che abbiamo già stravolto un po' di cose perché Galardo in quella posizione non ha mai giocato e sta dimostrando di essere uno dei centrocampisti più forti in categoria in questo momento, c'è gente che deve prendere la condizione, gli esterni soprattutto ancora devono lavorare per capire quello che vuole l'allenatore, noi dobbiamo attaccare gli spazi, dobbiamo sempre cercare di mettere due contro uno sulle fasce, dobbiamo essere numerosi ad attaccare la porta.